Manca poco ormai alla sfida con il Bari, dopo due trasferte si torna al Marulla. Qual è il bilancio di queste due gare giocate a Parma e Terni e che indicazioni ha tratto? Io penso un bilancio abbastanza positivo, sempre con la consapevolezza che si può sempre fare meglio, però penso che in tutta onestà forse ci manca un punto, che era quello che avremmo meritato sicuramente per il gioco espresso sul campo del Parma, però io mi ritengo soddisfatto perché anche in una sconfitta, in un pareggio, c'è stata una piccola crescita di partita in partita nei miei ragazzi, quindi anche spunti su quale lavorare per migliorarci, ma questo è quello che ci siamo sempre detti dall'inizio e quello che deve essere il nostro percorso. Nell'ultima fase di mercato, nelle ultime ore, sono arrivati Camigliano, Kornvig e Sidibe. Al di là di Camigliano che è già noto alla piazza, che caratteristiche hanno questi due giocatori? Sidibe è un giocatore che può ricoprire vari ruoli, sia a mezzana, sia nei due trequartisti, e quindi ha capacità di adattamento importante. Poi è normale un giovane, perché viene da un campionato primavera, però è uno dei migliori giovani che ci sono in circolazione per la sua età di nascita e anche per le caratteristiche. Anche lui andrà inserito, andrà valutato e andrà soprattutto collocato nella miglior posizione, è più idoneo a lui, ora lo stiamo provando in due o tre posizioni per capire anche poi avendolo da vicino qual è la soluzione migliore. Per Corning invece è un giocatore più avanti, perché comunque ha disputato alcuni campionati, qualche campionato professionistico nel suo paese. Anche lui è un giocatore che può ricoprire sia il ruolo di mezzala, può essere un trequartista atipico, può essere anche un trequartista atipico e quando parlo di atipico è riferito al fatto della sua mole. È un giocatore di grossa struttura, però da buone doti tecniche. A differenza di Sibi non parla la lingua e quindi dobbiamo piano piano anche lui cercare di inserirlo per fargli capire soprattutto da un punto di vista dei movimenti quello che noi richiediamo nel nostro sistema di gioco. Domani sarà il Marullo e il Bari, da giocatore ha militato per una stagione nella scuola bianco-rossa. Che ricordi ha? Ricordi bellissimi, facciamo una cavalcata importante. Io arrivai in un momento in cui il Bari eravamo in una posizione ibrida, abbiamo sfiorato i play-off, molto probabilmente perdiamo una partita contro il Genova clamorosa che assolutamente non meritavamo. Forse con quella vittoria si poteva sognare un ritorno in quell'anno in Serie A. Però tanti amici, mi sono trovato benissimo con la gente, quindi un ricordo sicuramente più che positivo e mi è dispiaciuto venire via perché avrei voluto fare qualche più anni. Cosenza non affronta il Bari dal 2003. Andiamo al presente. Quello con i Mignani è una squadra temibile, soprattutto nelle ripartenze. È una squadra che gioca insieme già da due anni, quindi ha una precisa identità. L'allenatore è un mio amico, esprimono un buon calcio. È una squadra temibile, ma sotto tanti punti di vista non solo quello. Noi stiamo preparando la partita, cercando di preparare nel migliore dei modi per mettere sempre più in evidenza quelle che sono poi le nostre caratteristiche. Prevendita che va avanti spedita, lo scenario dovrebbe essere quello ammirato nella gara con il Modena, o forse ancora migliore. Quanto sono importanti i nostri tifosi che ci seguono con passione in ogni gara, anche lontano da Barulla? Sono importanti soprattutto anche quello che vedo nell'esultanza dei ragazzi ai gol, come i ragazzi vanno proprio a ricercare il calore dei propri tifosi, specialmente sia in casa, ma anche nel trasferto di Benevento, il gol di Terni. Poi sono anche, dico la verità, mi fa piacere perché in ogni partita, soprattutto nella sconfitta di Parma, ci hanno chiamato per ringraziarci della prestazione, perché ricordiamoci che noi dobbiamo sempre dare la prestazione da un punto di vista dell'impegno e della partita fatta. Poi il risultato abbiamo visto che per vari motivi, figlio di tante cose, però per noi questi segnali sono di grande supporto e incitamento, soprattutto per una squadra nuova che ha tanti giocatori da amalgamare, a mettere insieme, siamo solo alla quarta giornata, quindi per noi il loro apporto sono un'iniezione di grande fiducia. Grazie mister.